Ci occupiamo oggi di impiantistica, nello specifico di impianti termoidraulici, rispetto ai quali l'innovazione tecnologica ha davvero compiuto enormi passi in avanti. Davvero potremmo parlare di una rivoluzione se facciamo un paragone con alcuni anni fa. E allora Confartigianato Taranto ha voluto approfondire l'argomento, perché dicevo è una materia sempre in evoluzione, con un incontro ad hoc che si è tenuto nei giorni scorsi presso la cittadella delle imprese di Taranto. Ho al mio fianco il segretario provinciale di Taranto di Confartigianato, Fabio Paolillo, e il presidente della categoria per quanto riguarda l'impiantistica di Confartigianato, Giovanni Palmisano. E allora partiamo subito dal segretario. E allora Paolillo, Confartigianato ha voluto incentrare l'attenzione su queste nuove realtà dell'impiantistica in continua evoluzione. Sì, appunto la continua evoluzione impone un'attenzione sempre maggiore per quanto riguarda l'aggiornamento professionale dei nostri associati. Su questa partita Confartigianato è presente e la svolge. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto il quindicesimo meeting tecnico per gli impiantisti dove è stata approfondita proprio una di queste evoluzioni che poi magari il presidente, che è la parte tecnica, vi dovrà spiegare. Il nostro compito cerchiamo di portarlo a pieno. Vediamo che c'è una buona risposta, c'è voglia di aggiornarsi, quindi vuol dire che se c'è voglia di aggiornarsi anche i clienti, anche l'utenza vuol dire che vuole approcciarsi a queste nuove tecnologie. L'importante è saperle fare bene ed essere chiari con gli utenti. La funzione dunque di coordinamento, di guida, di Confartigianato rispetto appunto agli iscritti. Sì, c'è un doppio binario dove dobbiamo prestare attenzione, c'è la parte degli adempimenti, quindi la conoscenza delle norme. Aspetto burocratico, diciamo. Aspetto burocratico che poi con le nuove norme è tutto a carico delle imprese che praticamente agiscono in nome per conto del cittadino, dell'utente. E poi c'è la parte di aggiornamento professionale, cioè saper porre in opera, mettere in opera le nuove tecnologie. Perché se poi l'utente te le chiede tu non puoi far vedere di non saperle fare. Grazie a Dio noi riusciamo con impegno e anche con l'impegno loro, perché comunque loro sacrificano molte giornate lavorative per aggiornarsi. E questo connubio funziona perché comunque ci fanno anche vedere spesso e volentieri le foto dei loro lavori. E quindi questo è tutto all'ustro della loro categoria. Bene, questo è l'impegno della funzione di coordinamento di confartigianato. Dunque abbiamo visto il ruolo, la funzione di coordinamento di confartigianato. E ora passiamo agli aspetti proprio tecnici con Giovanni Palmisano, presidente della categoria. Una rivoluzione copernicana rispetto al passato, al passato dei moto, ma anche notevolissime innovazioni tecnologiche rispetto al passato prossimo, più recente. In cosa si sostanziano queste innovazioni e queste differenze e questi vantaggi per l'utenza e per la collettività tutta? Indubbiamente non possiamo più pensare di avere impianti tecnologicamente ormai superati, tipo la caldaia a gas, per riscaldare i nostri appartamenti, che sicuramente continueranno nei prossimi anni, ma che saranno affiancate da nuove tecnologie. In particolar modo le pompe di calore, che magari abbinate a impianti fotovoltagi, tendono a far risparmiare energia, a rispettare anche l'ambiente, perché in una città come Taranto, tra l'altro, non è da sottovalutare. Ecco, diciamo che c'è anche tutta una serie di normative da rispettare. E quindi di qui la necessità per voi di aggiornarvi e di essere sempre al passo con i tempi, con le normative che questa rivoluzione ha imposto, tra virgolette. Indubbiamente ci sono normative sia italiane che europee che impongono queste nuove tecnologie e che comunque non se ne potrà fare più a meno. Su questo non ci sono dubbi. E quindi qui sta da parte nostra a essere informati e formati, proprio per dare le migliori risposte all'utenza finale. Infatti noi vediamo, facendo così un discorso pratico, vediamo, noi chiamiamo l'impiantista, chiamiamo il tecnico, viene, fa il lavoro che deve fare, però alla base c'è un continuo aggiornamento. Assolutamente, è imprescindibile, non è possibile non essere appunto formati, per fortuna abbiamo delle aziende alle spalle che ci danno questa mano e noi attraverso il confattigianato diamo possibilità a tutti di essere appunto informati di queste nuove tecnologie. Dunque nuove tecnologie, nuovi impianti, ma anche una forte convenienza economica per l'utente alla luce di una politica di incentivi. Sì, appunto, ci sono per fortuna ancora oggi degli incentivi da parte dello Stato che permettono di avere degli sgravi fiscali sul costo di questi impianti, tenendo conto che fra gli sgravi fiscali e quello che poi si va a risparmiare anche utilizzando queste nuove tecnologie, l'utente finale avrà sicuramente dei grossi vantaggi, diciamo anche che queste tecnologie per fortuna cominciano anche a costare meno rispetto al passato, quindi c'è ancora un incentivo maggiore a fare queste impianti. Di qui quindi, come dire, l'appello a innovare, a dotarsi di impianti moderni, sicuri, rispettosi dell'ambiente e che consentono anche un risparmio in termini di quattrini, diciamocelo pure. Assolutamente sì. Dalla mia esperienza ormai quasi trentennale, posso dire che purtroppo ancora ci sono molti impianti vecchi, petusti che consumano anche molta energia e quindi sarebbe il caso di pensare di rinnovare i propri impianti. Bene, abbiamo voluto aprire, seppur brevemente, uno spaccato su queste iniziative perché da un lato è giusto evidenziare il ruolo di coordinamento e di tutela dell'organizzazione di categoria e nella fattispecie l'ha confartigianato. Dall'alto però va anche menzionato l'impegno costante, altamente professionale, di chi svolge questa attività. E questo va detto sempre per il bene nell'interesse del destinatario ultimo, anzi primo, primario nell'importanza, che è appunto l'utente. Grazie.